ciao si bene qui sono di fornit allora io volevo fare una challenge molto tempo fa della soli esclusivi challenge che non potrò ne usa soltanto posso usare dinamite granate niente che tipo il lanciaraggio e le lanciaraggio non le posso usare e quindi tipo solo granate challenge e me l'aveva detto un mio iscritto che adesso non so nemmeno ci è scritto ma io volevo ho aspettato che avevo detto nella posizione che sarebbe uscita fra un po la dinamite è uscita e quindi adesso posso fare la challenge scusami se non l'ho fatta molto cioè mi ha chiesto tipo una vita fa e non potevo farla perché aspettavo che ho sceso la dinamite quindi adesso direi che posso farla chi è che non ho ah ok quindi adesso direi di poter iniziare e cos'è ok ok bene prima partita tra l'altro vedo quanta vita ho mamma mia zero di vita zero di shield perfetto quindi immagino che sarà invisibile la guerra bestia ma voglio dire di andare in un posto abbastanza che non c'è che non ci vada molta gente perché prima dovrei lutare e montagna mi sembra un posto perfetto adesso posso avere della vita no sono invisibile non mi apri per cadute no da allora fai chi è un player voglio provare la dinamite non rompete leva ok ok adesso ho la vita ok almeno questo green fox va bene ho cambiato pure il mio nome adesso sono green fox no cielo vero però la cammela scornata e spero che mi carichi la mappa sono a cam e per fortuna che non ci va proprio gente la torretta mi serve la torretta penso che sia l'unica arma che c'è l'unica roba qui anche le trappole posso però questa è la più utile che ho c'è una notte alla ma veramente seri e no c'è anche la la croce via c'è qualcuno e io vado qua ai magazzini lì qualcuno può aiutarmi a trovare delle granate sennò vi spacco la faccia con la torretta eh non scherzo adesso l'ho nerfata ma dovevano per a forza se 80 in testa no è troppo adesso l'ho di 60 andando a 30 di silgrazi e funghetti bene no 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 voi siete voi dovete morire male che cosa volete da uno che sta prendendo della legna ma dovete morire ma è quello sopra il lano mi sa c'è mio fratello che sta pure a bussare basta aiuto no ma è qui ma era qua Ti spacco la faccia Non mi fa entrare Mori Vai Finiti Ma voi mori male Sei mio fratello che bussa Godo Sì Finalmente una gioia Sì Allora Diciamo che Non è stato il massimo Di giocare con il fratello che bussava alla porta E dove andiamo oggi In questo che Van Gogh C'è tanto loot Però ci va molta gente Non lo so Perché in alcuni posti che Non c'è nessuno Lui viene a venire con me Ci viene della gente sempre Perché Come tipo Qua A Van Gogh Appunto ci va sempre della gente Poi non lo so Dove altro Però Tipo Ad Aprod non ci vende mai nessuno Ma c'è molto più loot Che a Van Gogh Non ha senso sta roba Ok Io mi fermo qui Alla doppia ceste Anche se non è l'idea migliore di tutte Vabbè Lo so che ho sbagliato Però volevo le doppie ceste Appunto Tanto lo sapevo che c'è andava qualcuno Non lo sapevo Lo sapevo Questo vale Il palloncino Il palloncino Il posso prendere Vedete che ci va sempre qualcuno Sempre Non è possibile però Non ha senso E io dove vado Non mi hanno lasciato niente Sti qua Voglio gli esplosivi Io Datemeli Sì Sì le stick Sì Grazie al cielo Grazie Grazie Fortnite Grazie Perfetto Stick ce le abbiamo È già tanto La 6 Oh Oh strana è vicina Me ne salvo molto Ma molto più lontana Ok Altro shieldone Posso andare full Qua ci sono altre cose No vero Oh c'è sta Bene Ok Lo so che c'è la cesta della vita Minigun Addio minigun Io devo per forza fare la challenge Solo mitragliette Devo Lancerati Ma 300 di ferro però Ne valeva Tanto c'è anche la macchina qua Guarda quanto salto Se metto il palloncino Uiii Salto un sacco Sì La torretta Grande Sembra solo torrette challenge Io direi di Guarda Se io posso fare così E far volare la macchina Eh No È troppo pesante Eh già Guarda invece così quanto volo Vabbè Addio Eh Bene Non dovevo salvarmi Ah Bene Perché Cioè scusate Cioè non avevo acceso la luce Ma mi ero dimenticata Adesso Eh ho rimonto questa parte Che qua c'è la Il qua C'è Era già denominato Perché c'è la finestra Qua invece no Quindi do accendere la luce Che Non potete capire quanto cavolo è forte Da un dolore prima di anche ma devo E invece avevo una finestra qua Una finestra là Era meglio Perfetto Sempre la stessa pista di prima Ma adesso cambiamo E Boh Dove andiamo Condotti confusi Non lo so perché Ma mi spiera condotti confusi Io voglio proprio le dinamiti Datemi le dinamiti No dai No No Non potete andare ogni do Cioè Loro vanno ovunque Ma non è possibile Eh Sono vicino a Pinnacoli Diciamo che non è il massimo Vabbè C'è sta Lo so Che Niente Vabbè Bolt action Oh Sì Nelle granate Grazie Almeno con le ballerine Guadagno un po' di tempo Per scappare Oppure per infiederle E mettere una granata Dentro E allora È il momento Adesso io direi di volare Non so dove Ma Voliamo Allora Direi di andare sopra quella montagna Wiii Che bello Mamma mia Mamma La perfezione Chi è? Cioè Ma avete mai visto Una perfezione così tanta? Cioè Quanta perfezione può avere una persona? Adesso andiamo La sopra Invece Wiii Ok Abbiamo già girato un po' Eh Aia Vabbè Sono andato in piedi È perfetto Oggi Sono Incredibile Voglio quella cesta A tutti i costi Eh Nessuno me la roberà Cesta Lo sapevo Lo sapevo No non voglio morire Ok Ho sei granate È già tanto Un sacco in realtà Qua sotto c'è qualcosa? No vero? No Ah Un po' Un po' Cart Grazie Andiamo Allora Molte persone non lo sanno Ma se tu fai Uno Due Tre Se io se la faccio Magari Posso volare E farmi tutta Quasi tutta una mappa Quindi guardate Tipo faccio così E posso andare Molto Molto In alto E però Io non lo so fare Ok? Lo faccio male Bene Ogni volta che sbaglio Perderò vita Ma vabbè Sono in pratica Al centro Di tutto Al centro Della 6 Sono sopra una montagna Adesso vado sopra la montagna E Dobbiamo avere Se qualcuno E fa una tir No No Non voglio cadere Vai su Sì Sì No 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 Non cadere Oh Ditemi come fa ad essere in piedi Cioè come faceva a non cadere Vabbè Buongiorno C'è qualcuno? Eh Ok Non credo che ci sia Quello è un lama? No No È un lama È un lama È un lama sopra un albero È un lama sopra un albero Sì Altre granate Mamma mia Cosa sta succedendo? Il lama è la mia salvezza Ah Meri che ti ho tirato Lama Sei mio Allora mi serve un cubetto per ordinare sopra Un cubetto per favore Ok Sto pure facendo la sfida a caso Allora Cubetto Lama Dove sei? In quale albero era? Eccolo Eccolo lì Lama Sto arrivando Buongiorno Lama Eh Ti posso spaccare l'albero in cui sei? Ok Grazie Lama Ciao Come ti va la vita? Mi dici se ma stai per morire Torrette Sì Ok Hai anche delle stiche Perfetto E altre granate Mamma mia Quante robe buone Applierla Eh La posso bombardare Vorrei tanto bombardarlo Però Proviamo così Watcha Watcha Ok dai Andiamo sopra Vai Muori Infame Allora Allora Facciamo l'albero prima di tutto Perfetto Allora Ricaricati Fretta Ora Di nuovo Sì 40 40 Mamma mia No Chi è stato? Chi è stato? Ma Non c'è Non c'è la morte Muori male Dai Almeno una granata può andarci Vai Una Nemmeno una Scusami Non volevo farti del male Anche Bravo Così No È andato via Uffa Mi dispiace Ok Calmati però Ah No Allora Questo è un problemuccio Aiuto Allora Sapete che quando si sta per morire Bisogna fare così Oh Ok Ok Quello è brutto Aia Quello è molto brutto Sapore Cade Muori Dai Muori Allora Un po' di danni li abbiamo fatti Vai via E che cavolo Mi vuole uccidere Mi vuole uccidere Ho finito quasi tutti i materiali M È un problemino Cosa Eh Spiegatemi Cioè Lui era in solo la granata Appena toccato la terra E esplosa Ma cos'è Vabbè GG Aia 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 Grazie a tutti